e non ha spostato alla fine di andare giù piano perché pensi già che non ci passi e invece non è così però cazzarola anche se l'allarga non cambia niente allargarla il più possibile ma ti sei incastrato nel sasso? non ha troppo stress per me ce la faccio in base è una sprovo diversa tanto sei su la radice né larga né stretta non c'è verso non c'è verso né stretta né larga no anche perché se la prendi molto in alto però non ci stai dentro si frega si guadagno tanto di là adesso provo a stare su le radice e lo trovarà e lo trovarà arrivi sempre qua stupido arrivi sempre qua così non riesci ad allargare eh dovresti cazzo dargli dentro di colpo forse forse quando si dice se gli dai va su basta ci stupare bravo me ne vado anch'io basta l'ultima volta me ne vado guarda la data via ci va neanche in trazione vai cì no basta ci stupato basta via 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 basta un'altra zona andiamo mi ha rotto le palle no cosi no cosi eri giusto cazzarola era lì bene cacchio adesso li dai perfetto eh dovevi andare no dovevi andare di dritto invece tu hai a far così eh ma eri giusto preciso eh eri perfetto adesso si è sempre è sporca eh non è una pecca che cazzo il pecca che mi sono in grippa